Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Come sappiamo ormai la battaglia per la rieducazione ambientale procede a pie sospinto, una sorta di pedagogia green che riguarda tutti e che tutti ci vorrebbe in linea con le nuove battaglie ambientali che hanno come prerogativa quella di far passare l'idea che in qualche modo se l'ambiente soffre e si avvia per molti versi a esiti possibili di tipo disastroso, ebbene ciò accade per i comportamenti di ciascuno di noi e quindi tocca a ciascuno di noi rivedere la propria vita alla luce delle nuove tendenze green. Come più volte ho sottolineato si tratta di una narrazione sicuramente edificante per il potere che scarica sulle spalle dei singoli individui, dei singoli cittadini responsabilità che forse appartengono ai gruppi dominanti e che i gruppi dominanti stessi dovrebbero risolvere mutando modello di sviluppo. Ebbene leggo, ed è una notizia non recentissima ma che mi piace commentare ora, è del 30 marzo 2023, ma sempre nel 2023 siamo, leggo sul fatto quotidiano i jet privati inquinano sempre di più i cieli d'Europa, boom del 2022 con 572 mila voli più 61% in Italia da Olbia alla tratta Verona-Brescia. Insomma, per un verso, loro signori vogliono che le plebi che noi siamo consumino meno, altrimenti passando al green, all'energia di altro tipo, alternativa, che abbandonino le macchine classiche, passino alle auto elettriche e poi i loro signori bellamente aumentano l'utilizzo dei jet privati con anche alcuni esiti tragicomici come quello non di molto tempo addietro di quel raduno in cui i potenti della Terra si davano convegno per discutere del problema ambientale, della questione climatica e raggiungevano il luogo dell'incontro, appunto, tramite i loro jet privati che sono super inquinanti, un'immagine perfetta, direi, della situazione catastrofica, ma non seria, nella quale nostro malgrado ci troviamo. Ora, tutto questo non deve costituire un argomento per negare che esista un problema ambientale. Certo che esiste il problema ambientale ed è il prodotto ineludibile della civiltà tecnocapitalistica, quella che Heidegger-Dochet considera lente nella sua totalità come disponibile e dunque come sfruttabile in nome della volontà di potenza illimitata. Indi per cui il vero modo per risolvere la questione ambientale non è ritinteggiare di verde il capitalismo, non è trasformare in green la tecnica, ma è cambiare modello di sviluppo, quindi compiere semmai l'esodo dal tecnocapitalismo ciò che, sa va san dir, lor signori ai piani alti non vogliono accada e anzi si adopereranno in ogni guisa a ciò che mai accada.